Milano, 17-7, è morto a Prato l'allenatore Eugenio Bersellini. Aveva 81 anni. Emiliano di Borgoval di Taro classe 36, legò il suo nome all'Inter di Ivano Fraizoli, che lo chiamò sulla panchina nerazzurra nel 77, dopo gli inizi in Serie C con il Lecce, la B al Como, e la salita in Aconcesena prima e Sampdoria poi. Allenò l'Inter per cinque stagioni, dalla 79 all'82, e con giocatori come Bordon, Altobelli, Oriali, Muraro, Beccalossi e Beppe Baresi vinse lo Scudetto nel 1980, e due Coppe Italia, nel 78 e nell'82. FC Internazionale piange la scomparsa di Eugenio Bersellini. Alla famiglia, scrive l'Inter sul proprio sito, vanno il pensiero e l'affetto di tutto il club, e dei tifosi nerazzurri. Mi sono sentito con i vecchi amici dell'Inter, siamo tutti in contatto via Cati, e in questo momento posso dire che fra tutti noi c'è un grande momento di malessere, ha detto Alessandro Altobelli, centravanti dell'Inter tricolore del 1980.